Ciao a tutti, oggi voglio dedicare questo video per ringraziare la bellissima esperienza che ho potuto condividere con Fabio Gallerani, il quale mi ha dedicato un po' del suo tempo e nel dedicarmi appunto in questo percorso di coaching meraviglioso. Quando mi ha domandato appunto se si voleva parlare di mappe operative o comunque di un percorso di setup mentale, ho guardato perché al momento ne sono rimasta, ho detto ma chissà che metodo utilizza, io non so, ho seguito dei corsi di crescita, parecchi corsi di crescita personale, però mi aveva molto incuriosito il fatto e ho lasciato che accadesse. Beh, è stata un'esperienza bellissima perché non è una semplice consulenza, è veramente un servizio di coaching molto intenso con un metodo che io non conoscevo per nulla, dove Fabio è andato a scavare, così si dice, a scavare nel mio passato nel cercare il perché, il perché delle mie scelte, il perché del mio progetto, il perché dei miei sogni è di vedere, di studiare insieme, perché non fa parlare solo te, si parla insieme, è di studiare insieme proprio una mappa operativa che porta a un processo, a un procedimento fino poi al pacchetto conclusivo, ma è semplicemente la conclusione quella. lui va molto a scavare su quello che era, che ti ha mosso e ti ha fatto nascere quella voglia, quella passione di creare qualcosa anche dal nulla, ma che senti estremamente tuo, però che umilmente magari non sai ben organizzare, non che non sai da che parte prendere, ma che hai un sacco di idee e non le sai incastrare l'una con l'altra. Lui ha proprio questa capacità con, come dicevo oggi a lui, un ritmo incalzante, non molla per parecchio, per più di un'ora, per parecchio tempo, non molla mai con le domande, con le domande, diventa piacevolmente fastidioso, nel senso che continua a incalzare, a chiederti perché hai fatto questo, come mai ti era successo questo, ma quindi, e quindi cosa vorresti lavorare, ma secondo te che bisogni ci sono? Cioè, continua domande risposte, domande risposte, e riesce proprio a diventare chiaro quel groviglio di idee che in sé già avevi in testa, ma che non riuscivi, come dicevo prima, ad incastrare. Perché, come si suol dire, se non sai da dove vieni, non puoi sapere dove andare. E lui ha scavato in Alessandra da dove vieni, nella mia storia, nel mio essere, nella mia vita. Perché? Perché il messaggio che passi è un messaggio personale, quindi è un lavoro che devi fare su te stesso. Ecco perché si differenzia su tutti gli altri, gli altri consulenti, che con tanti fogli studiano il progetto, ma in modo assettico, non dico che sono tutti uguali uno con l'altro, per carità, però questo è proprio a livello personale, va a toccare i punti particolari e lavorare sulla persona, perché poi i progetti, il successo, i sogni, sono proprio relativi alla persona, alla singola persona. E quindi è lei al centro di tutto. Ed è veramente a questo metodo che io ho trovato formidabile, stancante, perché alla fine della sessione non riuscivo. Per fortuna lui ha anche l'accortezza di registrare il tutto e di mandarlo, tale da rivedere i vari punti salienti, perché poi con questo ritmo incalzante non è che uno si mette e prende tutti gli appunti, e magari quel passaggio lo perde, invece manda tutto registrato. E oggi l'ho già risentito due volte, ed è stato veramente eccezionale. Io lo consiglio vivamente, perché è un bellissimo lavoro. Grazie mille, ciao a tutti.